Grazie, ho poco da aggiungere, quindi vado per flash. Il primo è che mai ho sentito l'Europa così vicina come ieri al Consiglio di Lussemburgo e oggi con la presenza qui di José Manuel Barroso e di Cecilia Malmström. Ieri, per la prima volta, ho visto i rappresentanti degli Stati del Nord non solo solidarizzare a parole ma anche dire che Lampedusa, che quest'isola, è la porta dell'Europa in mezzo al Mediterraneo. E questo è il punto cruciale, è un punto di svolta che serve ad affermare che questa frontiera qui davanti a noi è la frontiera dell'Europa. Abbiamo sentito migranti siriani dire chiaramente che arrivano qui non perché vogliono stare qui ma perché vogliono andare in Europa. Noi sappiamo che la Commissione europea ha un ruolo importante, un ruolo propulsivo ma sappiamo altrettanto che è dagli Stati membri che deve venire lo sforzo principale di un'intesa su questi temi. Ecco perché a livello intergovernativo lavoreremo per raggiungere tutti gli accordi che potranno facilitare il lavoro della Commissione. La Commissione se è qui è perché ha voluto essere qui per dire con grande forza che Lampedusa è nel cuore dell'Europa. Ora tocca agli Stati membri. Gli Stati membri devono fare fino in fondo la loro parte. Ecco perché tutto quello che ha detto il Presidente del Consiglio sulla priorità in agenda di questo tema vale nel nostro rapporto con gli Stati membri che è come elemento importantissimo e motore di tutta la politica sull'immigrazione in Europa. Ieri questo riconoscimento è venuto forte e si è deciso ieri sotto la guida di Cecilia Malmström di fare squadra costituendo una task force alla quale hanno già deciso di aderire alcuni importanti paesi dell'Europa, non solo quelli, ed è questo il fatto nuovo, non solo quelli dell'area del Mediterraneo ma anche i paesi del nord. Non voglio parlare di miglior via attico, siamo sulla strada giusta perché è troppo generico, perché sappiamo con grande concretezza quali sono i passi da fare. Allora un passo sarà fatto oggi per dare un segnale forte sul diritto d'asilo e sui temi che riguardano anche la migliore accoglienza. Un altro passo sarà fatto nei confronti di questa comunità lampedusana alla quale va la nostra più profonda gratitudine, unitamente alla comunità siciliana, dentro la quale comunità siciliana vi sono quelle comunità agrigentine che hanno accettato immediatamente quelle bare, quei corpi, nei loro affollatissimi cimiteri come segno di grande generosità. Bene, a queste comunità noi dovremo restituire una parte del danno che subiscono, non perché loro subiscono un danno morale, ma perché loro non meritano di stare agli onori della cronaca solo per queste tragedie. Quindi misure compensative urgenti ed una politica sull'immigrazione a livello europeo che è quella che abbiamo descritto. Io ho concluso e spero davvero che questo incontro di oggi, questa visita qui, sia davvero un punto di svolta nelle politiche europee e nazionali.